Buonasera, allora, e di pochi giorni fa la rivoluzione definitiva del mio partito, che mi tengo legittima e spesso attento, visto che è stata provocata da un segretario sostituciato, volta a tempo avuto, e spesso non voglio regare per si liberare come si mette le organizzazioni democratiche, ma quello che è chiesto è il fatto che questo direttivo passato da liberato, uscita dalla maggioranza delle organizzazioni, spesso a dire che è stato me, gli assessori e un senso maggioritario del senso stesso, che tra l'altro non è stata conoscenza e non è stata scelta proprio dai giornali sbordati. Per cui, inoltre, dopo, nella domanda che faceva il consigliere che aveva un attivizio, il Paese Democratico di maggioranza, anche perché come volevo ricordare, c'è un accordo provinciale che sostiene i cittadini, visto che è stata attivata che lavorano, che sono sciv zb, che sono uffici, a un gioco che costa ai fichi hanno un pubblico, e staggir, peraltro la presenza del pubblico staglartano che pericolava un percorso chiaro e netto che pericolava l'approvazione del regolamento consigliare nel functions e nel sbocco. All'ultimo, mentre in unaialità gli scopercano delle tre, il centro di effetti di malattie votate, tempo di effettiva delle stazioni votate, ma che è stato conto modo alto, il posto di più, ci è stato in patrimonio della scelta, che non viene Grazie.